ciao ma e quindi non aveva quito esattamente sto centro della piazza è da considerare dove aspetta un attimo ragazzi entriamo in gioco ancora una volta e vi raggiungo io sono ancora qua scusate scusa salutare i miei iscritti c'è tutti i ragazzi siamo alla seconda puntata della serie senza nome vado a cercare i miei amici mi sono abbuffato di minerali e adesso morirò di fame ragazzi ho fame porco 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 aspetta aspetta vieni qua vieni qua dove sei amici una domanda banale so che è banale ma mi date le coordinate ancora 60 700 più o meno poi ti trovi perché è sotto la montagna siamo cavoli sono uscita una bellissima miniera ma devo segnare perché mi pare proprio un posto carino e ci ho lasciato una fornace con del carbone io porto carbone ferro e coppere ho preso un bel po di minerali miniera parlando parlando ridendo se vi ha cibo sì 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 io ho due bistecche di maiale però ragazzi è il chiria fate la farm mettete su una bella produzione di bistecche e di fissure volentieri se ci dite più o meno dove potremmo fare la nostra zona e volentieri lontano dalla piazza dividiamo la piazza in uno spese di quadrilatero in qualche modo la piazza va necessariamente fatta a tonda e la facciamo attraversare da una strada che fa un incrocio diciamo allora scusami una cosa dimmi abbiamo tanta abbastanza coblast andiamo a fare il disegno della piazza sì benissimo ragazzi non siamo ottenuti con il giro non le chiedo più 60 700 poi ci trovi comunque giuro non le chiedo più l'ultima volta la z non serve perché è semplicemente l'altezza nel piano e benissimo perfetto già posso fare anch'io anch'io ce la posso fare volete fiori gialli e rossi funghi venenosi quindi fai il fio cosa che si dice il fioraio si adesso si dice così una volta si dice in maniera più cruda ho detto che non farò battute di scarsa qualità non le farò bella questa per me è già l'armani ecco un bello spiazza ragazzi le pecorelle vanno colorate allora c'è anche una pepola nera bene quella è vento allora io ho bisogno di superiore appunto sì sono qui sono qui ho anche tipo tre stack no due stack e mezzo di anche io io ho uno e mezzo bene allora è notte non è memmi nera perché c'è una casa di fango e memmi dove sei è mia a tepi c'è uno zombie da dietro vieni qua un cane un cane io ho due ossa se mi dici dove sei posso citate le vedere ma vuole vuole le ossa o la carne putrida è notte a te fatte l'amico di ai tagli le ossa o cazzo non le ho e dove sei ti raggiungo ti do le ossa sono a 770 70 due cani ce ne sono due ce ne sono due cani va che si è sistemate anche a soffitto ci sono tre cani e si inizia da una parte e poi si fa l'altra è pieno di cani ragazzi io arrivo e porta tre quattro cani eh io ho solo due ossa ora vedo anzi vabbè sconti già un paio di scheletri sulla via oh ciao 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 vabbè io vado lì 775 69 che figura di palta 75 69 775 69 che palle cazzo si oddio è pieno di creeper che pareva oddio è pieno di un attentato tolcela mamma mia dacchi con quella cobblestone rovini tutto è bruttissimo ma poi si cambia andrei a segnare i posti per la creazione della piazza io succedisco di fare la disegna ma è arrivato un po' al giorno qua vediamo un po' no pare di là oddio guarda quanti creep oddio 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 scappa sulle scappa oddio 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 scappa scappa oddio 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 dicendo poi scappa scappa 1 se trova la mia roba, avessi messo il key point sarei stato più furbo ah beh no c'hai il dead point, ho trovato cose interessanti dov'è che ha messo la cobblestone d'archim? non l'ha messa bene e che cosa? e dove? ma dov'è che sta vicino la piatta gang? non trovo dove sono morto, no che figura di merda e quindi bisognerà dire a Vente che dovrà spostare un pochino la miniere è qua così piccolina, dove c'hanno sono morto? 770 euro no questo è solo al centro eh aspetta, ora tiro fuori la mia immaginezza di... no non pensate male, la mia immagine è di cerchi che c'ho un'immagine per come fare i cerchi in Minecraft, sarà utile di che diametro vogliamo fare? 20 blocchi? 22? eh 22, va bene allora 22, ritroviamo un pochino 22 perfetto vabbè, la dovrò fare io dunque sono 1... allora 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 no no calma 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 fermi questo è il centro ehm no il centro deve essere di 4 ma dovete sono morto ragazzi? non ne posso più dov'è la mia roba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 volevo dire 6 4 4 noi stiamo accumulando un sacco di materiali da scambio qua e no più che altro adesso dovete darci una mano dopo ciao mostra la tua mano nooo aspetta il giorno prima di partire eh volevo recuperare la mia roba è stato anche cresciato mannaggia che figura grande che figura che ci vuole il ferro ma non fa la piatta ci cerca il ferro eh no stavo solo vedendo dove metterla sei della... delle tonce fa se mi dici fino a dove arrivare mi fa un favore ehm non è così facile aspetta si vede che siamo molto convinti su quello che dobbiamo fare eh mi riempite ma io intanto riempite ma io intanto riempite pescavo dove sei? sei sceso giù? 1,2 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 1 1,2 1 1,2 1,2 2,2 1,2 77569 basta che sei numero neppi prego ragazzi scusate ho crashato sto ritornando cerco appunto i lasciato molto prima che ho perso l'inferno disumano che figura aiuto ma io avevo la corazza di red butter ma chi me l'ha fatto fare? mettiamo qualche torcia su red ehm? mettiamo qualche torcia 77569 vediamo se ce la facciamo che giorno forse ce la faccio e recupero la mia mercanzia benedetta magia beda magia doveva che palle ragazzi che palle aveva un creeper davanti l'ho colpito è sparito lo sento 775 ma sparisci ma il giorno perché non muoio lo zombo 75 69 775 69 stiamo dando i numeri non stiamo giocando all'olta di gioco ma è smossato il cerchio cioè con i micro blocchi poi forse riesco a scusa ma se fai così poi non fai così e non viene più un non c'è fai non sono capace non sono capace sono tre sei è la mia si portate goblet sempre fuori se non è una cosa che è la rega fa casta ok ragazzi ma possibile che mi sia già scomparso tutto è che mi sarà già scomparso tutto di sicuro è la roba è scoppiata qua che palle ho scavato una tonnellata di roba uffa iniziamo bene ragazzi della serie fantastica si si ricominciamo ricominciamo ci sono anche quei due cagnolini che c'era prima tutto non c'è più niente hai sbagliato serve secondo me ero trovato cani porci ma che aspetta 12 ha sbagliato proprio questo va qui 12 12 noi abbiamo un sacco di materiali di ogni tipo quindi l'industria cazzo altre cose si da posto che palle ma così poco si mette a storia roba domani è quattro minuti ci mette ave allora che si è sparita con i fiocchi però con gli interessi è sparita che è da se vuoi qualcosa ci siamo ma lascia stare sto rosicando un po ma 12 12 ce la farò 12 e mi dai un tocco di pala qui dai qua aia attento c'è un creeper qua un porco demonio esplodi bravo oddio ho preso tutto la workbench mi serviva mi dimentico sempre che non ho armature di dark matter pirla ma è la mia la mia cosa di cibo fin a tutto mi sto morendo di fame vabbè mi sfogo picchiando la vacca bravo fai bene ho un altro osso quindi se travi dei cani quasi sicuramente ce l'hai ma lascia perdere non c'è più da che un cane è pazzesco è scomparso tutto 1 1 1 2 no quindi è 1 2 3 4 5 insomma faccio eco ecco ti puoi El Chiria? si? Poblesson grazie arriviamo Chiria sta per morire di fame ma veniamo dammi dammi la la cosa vabbè da prima tornare in superficie per evitare che tanto si per morire qui dov'è più che si torna? di qua? vieni allora arriviamo con la cobblestone ye 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 e poi voi cibo avete mica trovato qualcosa? eh no io ho quattro bistecche ma devo cucinarle ci serve io sto arrivando con due bistecche di vacca ragazzi eh dov'è? finite? ce la ferro qui si cerca di tornare in superficie non vedo dov'è questo lato ok 1 2 1 1 2 1 1 2 il cane il cane il cane io grazie se il cane eh dov'è? che magari ce la faccio bene voi ma sarà a quattro chilometri di distanza ma allora è finito non so e poi se fosse da queste parti l'uscita sono sicura si si mezza mezza piazza però cioè no mezza mappa non hai capito eh non è finita il cagnolino eh ma che due palle ragazzi ah è venuto davanti questo un pazzo io sicuro che fosse di qui l'uscita e ti devo eccolo mo con due ossa non mi viene passi in amora sto sicuro eh ho trovato i cani ho trovato i cani dimmi faccio una cesta per la palta qua in mezzo eh ok ragazzi ho un cane bravo si c'è colarino va bene eccomi lo chiami allora 762 70 ragazzi la zona dove ci sono i cani come lo chiamerai ah la juicy pensi chiamalo caccala si mi piace caccala si esatto un nome romantico si si mi piace molto eh usciremo dall'altro buco ahia ma se fosse un cane mi piacerebbe essere chiamato caccala sto morendo anch'io il mio primo cane da bambino si chiamava questo nome stupido ragazzi sei un po' bene se moriamo tutti i due con te pare mi piace soprattutto per il cane eh eh sei destinata ad avere un brutto nome ah io qui sto recuperando ci scriviamoci arrivo con un po' di cibo ragazzi si e dove sei ci abbiamo bisogno eh guarda il tempo di recuperarlo perchè sono 770 70 questa è la mia posizione se ti interessa ah beh c'è centinaia di blocchi ce la puoi esatto sto portando vacche e pelle il mio cane caccala e puerci cani porci maiali bestie schifezze ma volentieri guarda siamo zero di fa beh dovrebbe uscire dai ma ha preso l'influenza la bimba chiglia ah sta venita no un po' di mal di gola forte puttò che sento più o meno dai ci siamo ci siamo eh allora c'ho 10 bistecche dai vengo da voi si noi stiamo tornando dalla piazza ecco scusate se sono ripetitivo ma indovinate cosa vi sto per chiedere le coordinate esatto bravi si è una foglia sul tavolo eh penso di no adesso segno questo posto lo chiamo eden ragazzi benissimo questo è il famoso eden o nestus benissimo dai ditemi l'ultima volta giuro arrivo allora 70 660 ah 70 ragazzi giocatele all'otto se vincete non datevi un cazzo 660 però per abbassare non andare in alto giusto? ehm porto ciccia e porto caccala bene allora chi vuole cobblestone? eh basta poi mettete a lavorare anche te guarda metti qua riempiti no no perchè dobbiamo stare fermi già moriamo vedo una casa di legno in alto grazie in table ma invece di buttare così eh fai come ha fatto ok no come ho detto allora vuoi anche tu? cosa? a darking della cobblestone tu stai spiena all'angente chi mi insegna come si dà le comande ai cagnolini? eh su questo pacchetto non si può ah quindi il mio cane mi segue e basta? si e ti aiuta contro scheletri, ragni e zombie creeper no perchè ha paura ma muore facilmente? eh no è abbastanza lungo di vita vuoi la pala? quando vedi che ha la coda bassa infatti cagliate dopo si chiamata una keledan vuoi dare delle bistecche ok ho la carne ben putrida poi si inizi non scendo si sto arrivando a 670 basta numeri di le lettere vi vedo vi vedo yeah arriva la ciccia sono arrivati ecco cibo cibo ma io c'ho del cibo sembro che davanti eh cibo mi dai una bistecchina almeno una intanto la prendo nella fornace direttamente guarda vai in cottura ah scusa tieni il ferro che sta facendo prego senti pure anche gli altri pezzi però li vi vorrei cosa c'era dentro? vai il ferro eh otto pezzi di ferro prendi pure prendo anche io una bistecca doveva fare la strada grazie eh vabbè la facciamo che sale e che scende con gli scadini ecco me ne prendo giusto una vai vai grazie no percato è no guarda qua è bello perché dobbiamo aprire prese ok almeno per un attimo non muoire anche solo così ti rivesti tutto di adesso ne lascio una devo mangiare ancora io ne lascio altre 5 cotture ragazzi ok grazie mille me ne frego magari X a te così prego grazie non parlare allora ma ragazzi questa vi sembra una piazza? cioè ci sono due montagne e andate dove le costruiamo le case? ci rimetto il caldoa no ma le case non è che le facciamo attorno alla piazza si no se no siamo davvero appiccicati eh beh infatti se devo fare la strada non vedi? eh ma 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 devi fare la strada devi fare quattro strade eh sì ma non è che vanno tanto avanti la strada devi spianare tutto caspita beh ragazzi ritorno nell'Eden ok che che l'Eden era più la tua zona con un sacco di cose 370 ah sì quella non dice più no surreal tira giù tutto no ma è più bello che sale e che scende ha più senso di naturale ma che naturale tira giù tutto va ma 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 guarda tira giù tutto ma no eh ma così ci sono tutti i muri attorno e ti tocca tirare giù tutta la collina tira giù tutto ma 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 guarda dove cacchio c'ha dei scendi dei scendi una pala? eh vabbè facevi un sentiero e non c'ho legno tanto ma disattiviamo la matemus che ti piace solo pastiglio vaffanculo no devo modellarmi la terra se no non mi piace mi dispiace ragazzi vado in miniera ok cerco di portare a casa un po' di ferro se il cane mi segui ma il cane si perde? eh no no se si perde si teletrasporta seguami grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti